Testa coda a San Siro dove il Milan chiede strada al Crotone per riprendersi la betta del campionato. I calabresi sono l'unica squadra ancora senza successi esterni in questa Serie A. Ibraimovic sempre a caccia del gol numero 500 in carriera. Un as nello stretto, poi sinistro, che con la punta dei guantoni Donnarumma deve alzare in calcio d'angolo. Rispoli, cross dentro, colpo di testa schiacciato da parte di Di Carmine, che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Forse un po' sorpreso anche lui dal buco di Tomori. Ibra prova a inventare qualcosa da fermo, Leao chiama l'1-2, ancora Ibraimovic! 500 volte con i club! Re Ibra abbatte il muro del Crotone dopo mezz'ora di partita, 13 in campionato, 82 con la maglia rossonera. Golemic, sbaglia l'imbucata, Meite, Ibra, Leao, subito per Rebic, era di rigore, c'è lo spazio per la palla di ritorno, Leao prova a piazzarla! E Kordaz compie un autentico miracolo, distendendosi alla propria sinistra e prolungando in calcio d'angolo. Ha un passo dal raddoppio il Milan. Teo Hernandez per Ibra! Cioccolatino di Teo e doppietta per Ibra che sigilla il match! Diventano 146 in Serie A per questo ragazzino di 39 anni! Match in ghiaccio sull'asse, Teo Hernandez-Zlatan Ibraimovic! Cialanoglu, palla dentro, colpo di testa e Tris con Ante Rebic che mette la ciliegina sulla torta per il Croato. È il terzo gol in campionato, il sedicesimo in Serie A. Giù si pari a San Siro! Ibraimovic fa da solo, libera il destro, respinge Kordaz, cialanoglu, butta dentro per Rebic! 4-0! In 60 secondi la doppietta di Rebic, il poker del Milan che vola sulle ali della coppia Ibra-Rebic! Cialanoglu, Calabria. Cialanoglu, altro cross, Ibra da sottomisura, questa volta la tiene sulla linea Kordaz. Praticamente senza saltare, ma è riuscito a sovrastare Gigi. Copri testa di Mandzukic, Kordaz dopo il tocco di Gigi la salva con un riflesso, evita la manita. Il Milan ha niente il crotone e riscavalca l'Inter al primo posto, il braccio di ferro sotto la Madonnina, prosegue. Decidono le doppiette di Ibraimovic e Rebic. Persegno al primo posto, il Mor치 in un'epidio che si sapeva... Corso! 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 Grazie a tutti